Molte volte dico, se capite tutto quello che dico, avvisatemi, perché vuol dire che sono uscito dal personaggio. Penso per me era un padre, era uno zio più importante del padre. A volte il fratello minore. Papà trassudava questa energia, a volte ambigua, divertente, magica. Facciamo il muro, la volta che l'ho chiusa. Quello che raccolta lui, raccolta tutti. E avanti anche oggi con le cose che ha fatto io. A me! Spiccava proprio quella sua particolare vena ironica. Amara e feroce, per me era un mito. Vieni a essere tu. Penso è stato un maestro. Un artista. L'unico grande genio musicale che abbiamo vinto. No, no, no! Ma perché? Perchè no! E non sapevo che finiva così.